Si è in corso il Comitato per la Sicurezza con la Ministra Luciana Lamorgese, noi siamo poi in attesa anche della conferenza stampa che è prevista per le 13 all'ordine del giorno, chiaramente anche i fatti di Capodanno, le aggressioni e le violenze ad almeno 11 vittime accertate, anche episodi di rapina. L'inchiesta, lo abbiamo sentito nel servizio, sta andando avanti. Oltre ai due nuovi arrestati di oggi ci sono al vaglio anche le posizioni di altri giovani, non soltanto a Milano, anche a Torino. La Ministra Lamorgese lo aveva detto subito, fatti estremamente gravi che vanno trattati non soltanto come un tema di sicurezza ma anche con politiche che prevengano e curino il disagio di questi giovani marginati. Ricordiamo che entrambi gli arrestati di oggi hanno meno di 18 anni e uno dei due è arrivato a Milano come minore non accompagnato. Per ora è tutto, a voi la linea.